Oggi si parla del coraggio delle donne, si parla di discriminazione, si parla di violenza, ma dobbiamo dire, quelle donne che hanno il coraggio di andare avanti sono l'esempio da seguire. Certo, donne e coraggio ormai è un binomio inscindibile, perché essere donna implica doversi impegnare il doppio per avere una parità, per ottenere gli stessi risultati che ad altri sono garantiti solo per sesso. E quindi implica il coraggio di andare avanti, il coraggio di denunciare nel caso in cui si subiscano violenze e questo è connesso al concetto di responsabilità. Essere donna è una grande responsabilità. Essere donna è una grande responsabilità, ma dobbiamo anche dire, visto che parliamo di questa giornata, che c'è necessità di renderle consapevoli e di dire dovete avere il coraggio di denunciare quando siete oggetto di violenza. Assolutamente. La consapevolezza è sicuramente il primo passaggio e questo è onere di tutti, è onere delle istituzioni, è onere di noi magistrati, far sentire le vittime protette a proprio agio e non colpevolizzate. Tante volte la persona offesa sente di essere quasi, si sente, è la stessa giudicata, si sente quasi imputata, pur non avendo nessuna colpa. E quindi è importante che le istituzioni diano questo senso di vicinanza e di protezione a delle vittime. Parlare della donna con il coraggio che ha, che non va sottovalutato, è importante, ma parlare anche della violenza che la donna subisce lo è altrettanto, anche perché in questo ambito non tutti hanno il coraggio di denunciare. Esatto, io ritengo che la violenza, gli abusi psicofisici cui noi donne siamo sottoposti ogni giorno siano sotto gli occhi di tutti e forse in questo momento più che mai l'attenzione è alta. Però io ritengo che, come diceva, è il coraggio che ci porta avanti, anche il coraggio delle altre donne. Spesso in realtà noi donne siamo mosse dal coraggio che vediamo nelle altre donne. Non parlo solo di donne di Stato, avvocati, magistrati, ma anche madri, mogli, figlie che hanno il coraggio di alcune volte semplicemente ribellarsi, dire no alle violenze e denunciare. Denunciare è importantissimo. Noi come Solidarietà facciamo una campagna di sensibilizzazione da anni nelle scuole, perché probabilmente è da quell'età, è da piccolissimi e da giovanissimi che si impara a dire di no, a dire di no a tante cose cui noi donne non dobbiamo e non dovremo mai accettare di sottostare. La pari dignità è fondamentale. Sì, assolutamente. Io ho una mia idea sulle pari opportunità, un termine oggi anche un po' abusato alcune volte nel suo significato originale. Io ritengo che per pari opportunità si debba intendere nulla di diverso di quanto il termine ci indichi. Cioè io da donna voglio avere le medesime opportunità del mio collega uomo nella vita lavorativa, nella vita sociale e nella vita interpersonale. Nessuno chiede e chiederà mai di essere preferita un uomo, di avere alcuni tipi di tutele diverse da quanto sia legittimo aspettarsi. Solo questo chiediamo e lo chiederemo ogni 8 marzo di ogni anno. Le pari opportunità e le medesime opportunità. Grazie. 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 Grazie.